e una buona domenica cari amici ben ritrovati insieme io sono Marco Iacoviello di Oggi Trading come ogni domenica andiamo a affrontare insieme i principali mercati finanziari ma prima di iniziare vedete che sono su una pagina speciale ovvero dire Trading Room Workshop sarà disponibile gli ultimi cinque posti per partecipare a questo super evento come potete vedere questa è la pagina il link per poter accedere e acquistare il vostro posto riservare questi ultimi posti perché sarà un grandissimo evento saremo live direttamente da USA principalmente da New York quindi grande grande evento sia martedì che mercoledì andremo ad affrontare i mercati sia a livello teorico ma soprattutto pratico perché come potete vedere sono tre ore circa di evento poi c'è la live trading su zoom poi ci sono tutte le domande e risposte che potete avere nella giornata già di martedì con tutto il nostro team quindi saranno veramente tantissime ore di formazione quindi mancano cinque posti questa è la pagina nel link del video qui sotto avrete la possibilità di accedere visto che vi metterò il link per poter acquistare gli ultimissimi posti quindi ci vediamo direttamente poi martedì e mercoledì avete aderito veramente moltissimi quindi sarà una bellissima esperienza visto che è il primo workshop Trading Room che facciamo e quindi sarà veramente una grande esperienza adesso torniamo un po' sui grafici visto che questa è un'analisi domenicale pronta a darvi tutte le informazioni migliori per quanto riguarda l'analisi grafica come potete vedere siamo già sul grafico del gold questo è un grafico a quattro ore bellissimi i livelli presi settimana scorsa con il minimo a 1680 che potete vedere qui sotto e l'arrivo in questa nuova resistenza 1740 dove il mercato ha subito un po' di diciamo incertezza di questo recupero ma nulla di particolarmente grave il mercato ha tenuto molto bene questo minimo che è importante sia a livello settimanale che è un po' di tempo e adesso prova a dirigersi nella parte un pochino più alta a nostro avviso il mercato ancora per tornare e girare a rialzo ci vorrà un po' di tempo però tenete a considerazione che mercoledì ci sarà la Fed quindi dalle ore 19.45 i tassi dove è previsto un rialzo dello 0.75 e soprattutto vedremo un po' la volatilità che ci sarà nei mercati in quella giornata lì soprattutto poi dalle 20.30 con le parole di Powell quindi vedremo un po' quello che succederà occhi aperti perché il gold credo possa abbastanza diciamo avviare una volatilità da dopo le parole di Powell perché ci sarà credo particolarmente movimenti che saranno molto alti quindi la volatilità credo che ci sarà infatti abbiamo organizzato anche il workshop giusto per commentare poi live tutto quello che succederà nella giornata di mercoledì come potete vedere quindi siamo in una fase abbastanza nel breve rialzista perché il mercato se terrà in 1708 credo che potremmo rivedere qualche resistenza un po' più in alto in area 1740 1762 altrimenti il trend di fondo ancora per il gold è assolutamente ribassista quindi nel medio lungo ancora possiamo vedere qualche ribasso quindi due trend uno lungo nel breve e uno un po' più lungo di ribasso nel medio lungo andiamo avanti con euro dollaro euro dollaro si sta muovendo c'è volatilità però siamo in questo range adesso che è 1 0 0 1 e 17 e 1 0 2 90 quindi vedremo un po' quello che succederà a nostro avviso nel breve non è cambiato molto la situazione c'è stato un forte rimbalzo c'è da dire che la bce ha alzato i tassi di interesse dello 0 50 sembra quasi una cosa in reale visto che erano oltre dieci anni che i tassi erano fermi nel nella zona euro quindi vedremo un po' quello che succederà ma la situazione rimane ancora abbastanza incerta questo è solo un rimbalzo dovuto un po' a questi tassi un pochino più in alto ma attenzione perché la tensione potrebbe sempre tornare visto anche quello che stiamo vivendo soprattutto in italia con la caduta del governo draghi quindi in forte stabilità dei prezzi sui mercati europei vedremo un po' quello che succederà il trend è ancora ribasso ci siamo fermati su delle resistenze importanti che avevamo segnalato in area 1 0 2 50 1 0 2 70 se non ricordo male adesso l'ho leggermente ritoccata un pochino più in alto a 0 2 90 ma fatto sta che la resistenza sarà qua in alto anche qui occhio alle parole mercoledì della fed dove ci aspettiamo grossi movimenti andiamo invece sul sul dax metto un grafico daily giusto per avere un pochino più di respiro però i livelli non cambiano vi ricordo di partecipare al workshop trading room ho messo il link qui sotto ultimi cinque posti disponibili quindi ci vediamo poi live eh direttamente dagli USA ovvero New York visto che io e Matteo siamo proprio qui quindi ci sarà veramente da divertirsi martedì e mercoledì insieme parlando invece di dax tredicimila quattro e quaranta forte resistenza che come vedete è un livello che il mercato comunque sente da diverso tempo eh sia giugno che adesso a luglio e paradossalmente anche nelle stesse date perché era ventuno giugno venti luglio siamo veramente molto vicini a parte questo dettaglio che poi tanto dettaglio non è eh vedremo un po' quello che succederà la situazione rimane ancora al nostro avviso di tensione sui mercati io non questo è un rimbalzo voi dovete sapere che quando il mercato è in un beer market eh ovvero un mercato di ribasso quando ci sono dei rimbalzi importanti quindi eh delle risalite comunque da questo trend che comunque a livello macro è ribassista poi le discese sono ancora più forti quindi attenzione a tutti questi eh forti rimbalzi come abbiamo visto a marzo che c'è stato un fortissimo rimbalzo sembrava essere finito tutto poi arrivati da qui boom eh siamo crollati pesantemente quindi attenzione a innamorarsi troppo delle fasi rialziste bello cavalcarle nel nell'intraday come vedremo nel workshop ma a livello macro ancora per vedere un mercato che ci faccia vedere massimi importanti eccetera eccetera ce ne passa quindi attenzione un po' nel breve quindi finché teniamo tredicimila dodicimila e otto possiamo ancora vedere qualche rialzo e qualche attacco alla resistenza ma a mio avviso se dovessimo tornare sotto i dodicimila e otto tredicimila tutta quest'area qui attenzione che gli arrivi di nuovo ai minimi eh sono abbastanza a mio avviso scontati quindi attenzione un po' queste aree qua a rialzo invece un ritorno sopra tredicimila quattro e quaranta andrebbe poi il mercato ad attaccare queste nuove resistenze quindi vedremo un po' quello che succederà ok attenzione quindi al livello chiave che è qua tra dodicimila e otto e tredicimila attenzione a queste aree qua dando avanti petrolio che continua questa fase un po' incerta di ribassi abbiamo subito un supporto a novantaquattro eh vedremo un po' se il mercato terrà attenzione ai centosei che è la nuova resistenza che il mercato già settimana scorsa continua a sentire a livello di supporti abbiamo ottantotto e cinquanta ottantaquattro e finché il mercato proverà a tenere queste aree e possiamo ancora vedere dei rimbalzi in questo momento non sembra esserci molta forza eh per vedere dei rimbalzi quindi il trend è abbastanza ribassista almeno fino eh a che non ritorni il mercato sopra centotré ottanta dove potrebbe ripartire un bel rialzo quindi a livello di breve mercato eh ribassista almeno fino all'area di ottantotto e cinquanta da dove da lì potrebbe ancora tentare dei nuovi rimbalzi eh al rialzo mentre se dovesse tenere eh ancora cioè se dovesse rompere poi centotré ottanta già da questo supporto dalla tenuta nei novantaquattro e possiamo rivedere forti accelerazioni al rialzo quindi livelli chiave sono praticamente ottantotto e cinquanta per vedere nuovi attacchi rialzisti oppure centotré ottanta con la rottura e nuovi attacchi rialzisti ribassisti siamo già in trend ribassista quindi possiamo già arrivare sui supporti chiave andiamo avanti con il Nasdaq Nasdaq che che è molto forte nelle ultime settimane però attenzione come dicevo col DAX non cambia la situazione vi ricordo martedì e mercoledì workshop trading room veramente importantissimo soprattutto sul Nasdaq dove andremo a tradare live sul Nasdaq quindi attenzione eh massima durante quella live perché ci sarà veramente da divertirsi il link è qui sotto per registrarvi sarà veramente un super workshop trading room targato oggi andando avanti dodicimilasette e trenta è un'area importante di resistenza dove il mercato eh potrebbe ancora sentire queste aree e dodicimilasette e cinquanta eh uguale un'altra resistenza quindi ho messo due resistenze tre supporti vedremo se se basteranno perché mi aspetto grossa volatilità con la Fed e abbiamo già un supporto qua vicino a dodicimilasette e a dodicimilasette e a mio avviso un ritorno sotto già dodicimilasette potrebbe accelerare il Nasdaq a ribasso ritornando in area dodicimila e poi attenzione agli undicimilasette e venti quindi eh vedremo un po' quello che succederà mercoledì sicuramente sarà una giornata eh cruciale eh per quanto riguarda i mercati quindi vedremo un po' tutto quello che succederà andiamo sull'S&P S&P che ha tenuto l'area dei quattromila venuto un po' giù attenzione perché quattromila e quattromila centotrentanove sono due resistenze molto forti anche a livello di liquidità di opzioni eccetera eccetera quindi vedremo un po' se l'S&P avrà ancora forza per ritornare al rialzo mentre eh qui sotto la tenuta che avevamo già visto settimana scorsa dell'area dei tremila e sette cinquanta tre ha avviato questo piccolo mini rally rialzista dove però ci si è andati a stampare sull'area dei quattromila quindi attenzione un po' trend rimane nel macro lungo come ripeto da diverse settimane ribassista nel breve eh possiamo ancora vedere attacchi alle resistenze ma è cruciale che il mercato tenga i tre mila sette e cinquanta tre quindi questa è la situazione macro ancora incerta per vedere grossi rialzi ma nel breve possiamo ancora vederli quindi eh so che è un po' strana questa situazione però è quello che che vediamo tutti i giorni anche coi nostri corsisti individuare un macro trend e e poi un trend di giornata di per fare un po' per attività nel breve la sterlina nulla da dire sta tenendo bene questi mini minimi a uno diciotto settantasei uno diciasette settantanove vedremo un po' quello che succederà quindi buona tenuta eh resistenze in alto uno venti e novantasette uno ventuno e settantacinque vedremo un po' quello che succederà eh però eh non è cambiato nulla il trend rimane ancora ribassista almeno fino alla eh al no ritorno a uno ventidue ottanta se dovessimo tornare sopra uno ventidue ottanta si potrebbe ragionare per un po' di forza di sterlina contro il dollaro per rivedere magari l'area di uno venticinque eccetera eccetera al momento non mi sembra questo il caso dollaro Canada chiudiamo con dollaro Canada mercato ancora fortemente incerto per via un po' del petrolio di tutto quello che sta succedendo eh su quell'area lì del dei minimi del petrolio dollaro Canada ha sentito ancora queste aree in area uno trentuno e quaranta ma come potete vedere su un settimanale dove la situazione è più chiara siamo sempre in questo maxi trading range laterale dove eh uno ventisette e sessantotto fa da da pivot diciamo da da area centrale quindi sopra uno ventisette e sessantotto si cercano più i long sotto i ventisette e sessantotto si cercano più gli short per andare ai target di uno venticinque venti questo a livello teorico quindi questo per quanto riguarda dollaro Canada chiudiamo con il MIMB piccola parentesi figuraccia eh ma non per essere di destra o sinistra ma hanno scritto tutti i giornali da Bloomberg tutte le reti finanziarie più importanti al mondo ci hanno descritto come una situazione un po' ridicola quindi eh non voglio mettermi in politica perché non mi interessa non vivo neanche più in Italia però eh sul MIMB cosa c'è da dire eh con un governo che non c'è con tutte le cose che bisogna affrontare in Italia eh mi viene un po' solo il male a vedere questo grafico del Fuzzi MIMB eh situazione come vedete ribassista eh senza ombra di dubbio vedremo se terrà l'area dei ventimila centonovanta oppure si affonderà anche sotto i ventimila quindi situazione veramente pesante però non entro in merito eh andiamo direttamente a ehm condividere poi le prossime analisi settimana prossima io vi aspetto al workshop il link sarà qui sotto in descrizione un abbraccio a tutti direttamente da USA da eh New York no 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 no